5, eh scusa, 10 5, 4, 3, 2, 1, vai! 500 stai da questa parte della riga bianca, se poi non c'è nessuno vai di là al 100 stacca per destra e sinistra, 2 ok, andiamo, 500, destra piena, stai al centro sul dritto stacca per variante A1, entra a sinistra ok via via, progressione, andiamo, 300 alla roggia inversione sinistra per inversione destra un po' corti, eh? faccio passare questo dietro 300 imposte, tieni per la prima di Lesmo chiudi bravo, bene, 200 seconda di Lesmo bene, togli una, andiamo andiamo 300, variante A1, entra a sinistra stai a sinistra non mollare, tanto hanno più motore boh, stacca via, andiamo, 500 al 100 stacca per la variante Ascari imposta bene, concentrato qua, eh bravo, in progressione chiudi, chiudi, tieni e chiudi, tieni e chiudi via, giù tutto, via via, giù tutto 200, variante A1, entra a sinistra qua puoi ritardare molto alla staccata andiamo, dai, birillo, cazzo 300, inversione destra per inversione sinistra per destra 2, vai non l'ho preso no, però è chiuso un po' troppo sto giro occhio al rigagnolo qua te lo ricordi? siamo qua al 100 qua è il 50 dai, chiudi adesso qua sfiora e vai 100 vagliante stretta entra a destra via, pettina un po' via via, sfiora e vai 200 inversione destra per inversione sinistra alle gomme stacca qui andiamo 200 variante A2 entra a sinistra ben armonioso qua andiamo andiamo giù tutto via, via, via 200 variante stretta entra a destra signore vai 500 dai eh adesso iniziamo a correre resti al 100 stacca per destra e sinistra 2 ok morbido qua sfiora fallandare scivola fallandare 500 destra piena stai al centro in poste vai giù andiamo sul diritto stacca per variante A1 entra a sinistra una sfiora vai fa la scivolare andiamo 300 alla roggia inversione sinistra per inversione destra prova a tardare un po' la staccata qua eh ok prima inizia a accelerare inizia a accelerare armonico con l'acceleratore morbido vai 200 alla seconda di Lesmo buone ne levi una chiudi tutto e vai vai e ti allarghi te ne vai 300 variante A1 entra a sinistra bene sfiora andiamo via 500 al 100 stacca per variante Ascari bene così chiudi un po' tieni l'acceleratore vai accelera accelera tieni via tutto ok via cambia bravissimo 200 variante A1 entra a sinistra ok andiamo 300 inversione destra per inversione sinistra per destra 2 vai chiudi chiudi bene così 100 variante stretta entra a destra così via te ne vai ora 200 inversione destra per inversione sinistra alla gomma la gomma stacca chiudi via larga vai via 200 variante A2 entra a sinistra adiamo andiamo 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 che ci stai dai che ci stai vai vai giù tutto via 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 200 variante stretta entra a destra via ed ora 500 giù andiamo cacciano nella pelle via via al 100 stacca per destra e sinistra 2 morbido 500 destra piena stai al centro qua la faccio col pedale tutto giù tieni in progressione prova quello che ti senti fai sul dritto stacca per variante A1 entra a sinistra 300 alla roggia inversione sinistra per inversione destra stacca sul cordolo arriva Stefano 300 in poste tieni per la prima di Lesmo vai concentrato regui da Fabiano non la usiamo più la quarta chiudi 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 eccelera eccelera via veloce seconda di Lesmo butta giù la marcia chiudi chiudi giù giù tutto vai 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 fa la scorrere così 300 variante A1 entra a sinistra via andiamo fa la scorrere 500 al 100 stacca per variante Ascari entra a sinistra variante Ascari punto scusa sono proprio dietro dietro che fa ah ok sta passando allora stai largo via vai lì dietro vai concentrato chiudi 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 tieni giù tutto giù tutto via giù tutto porco Dio 200 variante A1 entra a sinistra andiamo andiamo via 300 inversione destra per inversione sinistra per destra 2 vai chiudi chiudi 100 variante stretta entra a destra 200 inversione inversione destra per inversione sinistra alle gomme chiudi chiudi oh falla scorrere via 200 variante A2 entra a sinistra deciso deciso vai 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 giù tutto andiamo 200 variante stretta entra a destra Sfiore Sfiore vai 2 500 via 100 stacca per destra e sinistra 2 dai 500 destra piena stai al centro sul dritto stacca per variante A1 entra a sinistra ok andiamo 300 alla roggia inversione sinistra per inversione destra stacca sul cordolo chiudi ok sfiora qua sfiora vai 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 apriti vai 300 in poste tieni per la prima di Lesmo in poste e tieni chiudi chiudi vai giù tutto via 200 seconda di Lesmo vai buttane giù una chiudi andiamo dentro vai troppo lento dai 300 variante A1 entra a sinistra stacca un pelo dopo il rosso e via appena dopo il rosso via stacca visto che c'è una bella frenata sfruttiamola via 500 al 100 stacca per variante Ascari chiudi la e dai andiamo via 200 variante A1 entra a sinistra e da qui abbiamo 300 inversione destra per inversione sinistra per destra 2 vai stacca stacca un po' prima del verde boh vedi che siamo corti cioè chiudi 100 variante stretta destra 200 200 inversione per inversione sinistra e poi usciamo dai alle gomme eh vai che bravissimo chiudi 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 sfiora qua vai dritto via giù giù perfetto non so perché mi è venuto da lasciare in quel momento là dai dai la manigliata così che mi è venuto da lasciare in quel momento là che mi è venuto da lasciare in quel momento là